buongiorno a tutti allora stasera l'ho già assaggiato vedete c'è l'angolino c'è un bel risottino al formaggio che è uno spettacolo non ho resistito mi ero anche dimenticato di fare il video infatti c'è l'angolino che l'ho già sgranocchiato perché troppo buono troppo buono sentito il profumo tipo topo e quindi mi sono fiondato sul piatto e ho detto oh cacchio mi sono dimenticato di fare il video vabbè comunque risottino spettacolo cotto al punto giusto col formaggio controllato anche dalla deateti giustamente trasformato in una sera nella donna del monte che ha detto sì e quindi adesso confermo che è ottimus anche bello abbondante e adesso c'è la sfida riuscirà al gigione a mangiarlo tutto probabilmente sì perché c'ho abbastanza fame e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao